Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi parliamo di spifferi. Gli spifferi dalle finestre. Gli spifferi dalle finestre è uno dei principali motivi per il quale mi viene chiesta la sostituzione delle finestre degli anni 60, degli anni 70, anni 80 e ahimè anche anni 90. Anche se anni 90 una finestra dovrebbe essere già costruita con delle guarnizioni che non dovrebbero creare nessun tipo di problema di spiffer o perlomeno non un problema così grande da dover far cambiare le finestre. Diciamo che la causa è principalmente del nodo tra telaio e anta apribile dove mancano le guarnizioni soprattutto nelle finestre anni 60, 70, 80 non c'era proprio la guarnizione. Il telaio e l'anta appoggiavano uno contro l'altro, lì basta mezzo millimetro di area ma in realtà delle volte ce ne sono due passano degli spifferi che come dicono il signore vanno a spostare le tende. Quindi sono le tende che si muovono da sole non solo il fantasma ma è lo spiffero della finestra. Poi gli altri spifferi che possono crearsi è se si ha le tapparelle avvolgibili quindi dal cassonetto coprerullo, dal cassonetto possono passare degli spifferi dove c'è l'apertura del coperchio ancora più grande di quelli tra l'anta e telaio e poi nei casi più gravi l'attacco a muro praticamente il telaio dove è toccato nel muro lì c'è una fessura, anche lì degli spifferi passano ma diciamo che il telaio e l'antra è proprio il principale motivo. Quali sono gli effetti di questi spifferi? Prima di tutto è che se hai una poltrona o una sedia lì vicino ti senti lo spiffero che ti arriva qui nel collo e ha un bel fastidio e quello è quello che lo noti come fastidio diciamo così naturale. L'altro fastidio lo vedi a fine mese quando ti arriva la bolletta della corrente elettrica o del gas a seconda di come stai riscaldando l'abitazione e il conto è astronomico quindi lo spiffero diciamo che crea questi effetti non da poco. Il lato positivo dello spiffero qual è? Che la casa spifferando cambia l'aria continuamente quindi i tasso di umidità relativa rimangono a livelli accettabili e anche il tasso di ossigeno nell'aria è sempre ad un buon livello quindi non avrai mai il problema di avere un'aria troppo ricca di CO2 che ti può creare mal di testa e sonnolenza però diciamo che questo piccolo pregio è molto inferiore rispetto a tutti gli altri difetti. Quali sono le soluzioni allo spiffero? Una soluzione che spesso si pensa è fare il cappotto e in realtà il cappotto serve a poco da questo punto di vista perché va solamente a isolare di più la parete isolando di più la parete aumenti praticamente la prestazione termica appunto del muro della parete ma lo spiffero rimane quindi andare a isolare con il cappotto senza risolvere il problema dello spiffero il conto astronomico della bolletta rimarrà pressoché uguale. Un'altra soluzione temporanea è il salsicciotto spesso viene usato sotto la fessura della porta ma io l'ho visto usare anche nel davanzale della finestra quei salsicciotti in panno colorati che vengono messi lì sul davanzale oltre ad essere molto brutti fermano leggermente l'aria quindi non ti arriva direttamente sul coppetto ma il contatore gira alla stessa maniera quindi il disastro energetico che crei è lo stesso. La terza soluzione che è la migliore è quella di posare una nuova finestra e la cosa migliore sarebbe come hai visto negli altri video di smontare completamente le vecchia finestra e di montare una nuova una nuova la consiglio di permeabilità all'aria in classe 4 per la classe di tenuta massima ti consente di non far più fuoriuscire aria dalla tua casa e quando decidi di cambiare aria perché dovrai cambiarla perché altrimenti come diciamo prima il CO2 diventa troppo elevato quindi mal di testa e sonorenza e la muffa va in tutte le parti della casa dovrai aprire le finestre in maniera controllata oppure mettere un ricambio di aria forzata che si chiama ventilazione meccanica controllata con ricorporo di calore lo spiffo era sparito, il ristaglio energetico è fatto e la tua casa se fai un bel lavoro sarà anche più bella ciao e al prossimo video iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale